Purtroppo avete notato, ho cercato di coprirla col foglio, non ci sono riuscito. Ieri sera, io dopo una giornata passata col Monza, una giornata di esercizi spirituali, in cui abbiamo parlato di calcio, ma anche del futuro di questi ragazzi, dopo che hanno finito di fare i calciatori, che è un lavoro, ma anche un divertimento, che devono prepararsi al dopo, prendendosi una laurea, studiando le lingue, preparandosi ad una professione, abbiamo deciso di dare qualche colpo a un pallone e io facendo un colpo di testa, ben riuscito, però dalla spinta che mi sono dato, sono caduto su un selciato fatto di sassi, mi sono fatto tre sbreghi nella gamba, uno nel braccio e mi sono fatto male al polso. Questo succede perché non mi ricordo mai di avere l'età che ho. Grazie, tanti auguri.